Buongiorno, avete dormito bene? Io per niente. Porca miseria, fa veramente schifo dormire all'aperto. Oggi è il mio secondo giorno e devo assolutamente costruirmi una casa. C'è da sgobbare parecchi e devo anche decidere dove farla questa casa. Comunque, volevate sapere il mio nome? Perché vi interessa saperlo? Per ora non vi dirò un cazzo. Se sarete bravi con me, allora potrei dirvelo anche il mio nome. Oggi è un buongiorno per raccogliere altro materiale e costruire una casa. Prima di tutto raccolgo legna e pietra e poi bisognerà scegliere il posto. Avete qualche consiglio? Eh? Ne avete? Va bene. Io direi che bisogna togliere questa cosa. Togliamo anche il letto che serve. Ok. Bene. Qui c'è un maiale che sta lì e un maiale lì. Allora, dovrei avere della pietra e infatti, pietrisco, io direi di costruirci una cosa in pietra, una bella, una bel piccone in pietra e vediamo. Dunque, vado a scavare. Eh no, eh no, ho un certo languorino. Direi di farmi un bel fornetto. Intanto mi sono anche scordato. La cosa lì, va bene, ne facciamo un'altra. Un bel fornetto. Perché devo mettere a cuocere questa bella carne. La carne fa bene. Ragazzi, la carne fa bene. Fa bene alle ossa, fa bene al cervello e fa bene alle gambe. Fa bene a tutto. Cuoci. Cuociamo la carne. Cuociamo la carne. Cuoci la carne. Dai, dai. Intanto continuo a scavare. La carne è pronta. Si mangia. Finalmente. Stavo morendo di fame. Carne di pecora cotta. Mangia, mangia, mangiamo, mangio, mangio. Mangio, mangio, mangio. Mangiamo anche un po' di manzo che fa sempre bene. Fa sempre bene. Credo di aver accolto abbastanza pietra. No, non basta mai la pietra. Non basta mai. E' pronta l'altra carne. Bistecca. Bistecca. C'è un'altra carne? Sì, bene. Ora devo anche rifare. Il piccone si è disintegrato. Completamente. Male. Male, male. Eh no? Ma va male. Sta già calando questa notte, maledetta. e io devo andare a dormire. Purtroppo devo dormire se no i mostri mi fanno un culo quanto una capanna. Eh, eh dai. Voglio andare a dormire. E muoviti. Andiamo. Salta. Saltiamo. Salto. Oh, va a fancare. Dai. Togliti. 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 Voilà. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Eh, ahia, ahia. Va bene. Ahia, ahia. Io. Posiziono qui il letto. Vado a dormire. Vado a dormire. Eh, vi auguro una buonanotte. Ci vediamo con un prossimo giorno. Buonanotte. Ciao.